Il mondo dello show business si basa purtroppo enormemente sull'estetica e sull'aspetto fisico, sia per i fan, spesso bombardati da canoni di bellezza fin troppo rigidi, sia per le star, per le quali la bellezza e la perfezione diventano obiettivi costanti. E non mancano pressioni provenienti dall'alto e dai media, come rivela Keira Knightley in un'intervista rilasciata a Elle UK, in cui l'attrice parla di veri e propri abusi. Mi dicevano sei una pessima attrice, sei anoressica e le persone ti odiano. Non cambierei nulla della mia vita, ma passando attraverso tutto questo, per un adolescente o per qualcuno che ha 20 anni è una cosa strana. Motivo per cui Keira non vorrebbe mai che la figlia facesse l'attrice. Al 150.000% la scoraggerei assolutamente dal fare una cosa del genere, infatti precisato la Knightley. Gli anni dell'adolescenza dovrebbero essere vissuti privatamente. Dovresti uscire, ubriacarti fino all'inverosimile, buttarti in situazioni assurde e fare degli sbagli. È il periodo giusto per farlo e dovremmo farlo in privato, ne sono convinta. Una mamma a dir poco liberale.